Siamo con il mister Ferazzoli per commentare questa vittoria importantissima per D'Avezzano dopo la buona prova di Campobasso dove però non sono arrivati i punti, oggi era fondamentale vincere. Sì, era fondamentale perché queste sono partite che quando l'hai vinta sembra tutto facile però non ci stanno partite facili, i ragazzi l'hanno approcciata bene e hanno dato seguito alla buona prestazione di Campobasso dove non avevamo fatto risultato e poi siamo anche confortati dai risultati degli altri che domenica abbiamo perso solo noi, oggi abbiamo vinto solo noi. Quindi siamo in piena lotta e siamo contenti che il nostro sforzo, la nostra vittoria oggi è coincisa anche con i risultati favorevoli delle squadre altrui. Ecco, in lotta play-off come si legge questa lotta? Appunto una domenica vince una, l'altra domenica perde l'altra, insomma è una sfida equilibrata. Sì, ma questo è dall'inizio del campionato che è così, diciamo togliamo il Campobasso che è la squadra che ha trovato più continuità, oggi nella difficoltà magari a Fano è riuscita a portare via un pareggio, le altre squadre sono state meno continue del Campobasso. Io l'ho sempre detto, siamo qui a ripetere le sette partite da fine, quest'anno è un campionato bellissimo e chi vincerà avrà grande merito, quelle che riusciranno ad andare ai play-off secondo me avranno fatto un campionato molto importante perché, ripeto, è così competitivo questo girone penso che sia stato pochi anni. Tornati alla vittoria dei Marsi, dopo che c'era stata l'ultima il 28 gennaio, ora si cerca la continuità? Beh sì, la continuità abbiamo cercato sempre di trovarla e purtroppo non ci siamo riusciti, molte volte abbiamo dato poca continuità ai risultati, però adesso la squadra sta bene. Prima di Pasqua abbiamo due partite importantissime, una attaccata all'altra, quindi ci prepariamo, mi dispiace soltanto dell'espulsione di Danczewski che purtroppo ha avuto un attimino di nervosismo, però ripeto, ho tutti gli altri giocatori a disposizione e sono convinto che prima di Pasqua riusciremo a fare bene.